Il sistema posa pavimenti e rivestimenti offre ai professionisti dell'edilizia una vasta gamma di prodotti come sottofondi, adesivi, impermeabilizzanti e riempitivi per fughe. Si tratta di prodotti qualitativamente eccellenti e certificati, selezionati e testati nel nostro centro ricerche FASA iLab, oltre che in diversi laboratori accreditati a livello internazionale. Tra questi vi segnalo la colla per piastrelle AZ59FLEX che ha ottenuto inoltre la prestigiosa certificazione QB basata sulla norma europea NFN 12004 e rilasciata dal certificatore pubblico francese SESTEB anch'essa relativa alla qualità e alla performance del prodotto. AZ59FLEX è un adesivo monocomponente a buona elasticità, deformabile, caratterizzato da tempo aperto allungato e scivolamento verticale nullo. Si tratta di un collante allegante misto, ad elevato contenuto polimerico, bianco e grigio, formulato colleganti e inerti speciali. AZ59FLEX viene applicato in interno e in esterno, su pareti e pavimenti per incollare piastrelle in ceramica, mosaico ceramico, clinker, grass, grass porcellanato, cotto, ricomposti a base cemento, pietre naturali non sensibili alla macchiatura e stabili all'umidità. La sua particolare formulazione, sabbie selezionate e unita ad un alto contenuto di speciali resine sintetiche ed additivi specifici, lo rende estremamente lavorabile e ne migliora l'adesione. Il prodotto è inoltre ottimo per la posa su intonaci e massetti, con impianto di riscaldamento e raffrescamento, su sistemi di isolamento termico a cappotto, su cartongesso e piscine.